Noi abbiamo un percorso formativo molto lungo, l'università che dura diversi anni, poi abbiamo il praticantato, poi abbiamo la vita professionale vissuta all'inizio che è quello che ci forma. Nel nostro percorso formativo nessuno ci fornisce invece gli strumenti per avere a che fare con cose che non sono gli atti da scrivere, le sentenze da studiare, le note di giurisprudenza, le note di dottrina. Cioè tutti quegli aspetti che riguardano le nostre relazioni professionali, interpersonali e che a mio avviso sono una parte della fatica che si fa a fare questo lavoro. Queste relazioni interpersonali sono in percentuale per la maggior parte le relazioni con i clienti, con gli assistiti, ma anche perché no le relazioni con i giudici e le relazioni con i colleghi. Noi abbiamo una grossa fetta della nostra giornata lavorativa che è caratterizzata dalla gestione di queste cose e la gestione di queste cose noi la impariamo facendo, perché nessuno ci insegna come si fa. Teniamo conto di un'altra cosa poi, che la nostra professione secondo me si avvicina molto, non so se si può definire propriamente, ma si avvicina molto a quelle che invece vengono definite professioni di cura. Che sono il medico, il psicoterapeuta, l'operatore umanitario, l'educatore, l'assistente sociale, vate alla pesca. Per tutte queste professioni qui, che hanno a che fare così avvicino con i rapporti interpersonali e che dei rapporti interpersonali fanno il centro della loro attività, sono previsti degli strumenti di formazione e degli strumenti di sostegno. Per noi questa cosa qui invece non è prevista, quindi noi impariamo facendo e tutto quello che ci arriva dalla fatica che facciamo facendo ce lo teniamo sulla schiena sostanzialmente, non è che abbiamo un supervisore a cui andare a relazionare o qualcuno a cui chiedere consiglio. E spesso le cose che ci capitano, che siano difficoltà, che siano fallimenti, che siano soddisfazioni o che siano successi, per quanto noi le raccontiamo a chi ci sta più o meno vicino, non vengono mai comprese davvero.